ciao a tutti sono federica e bentornati su ritorno al futuro allora ritentiamo a farci vedere da questi tizi e proviamo a usare qualche oggetto sopra la capannina la gazeboli che cavolo era c'è doc che non sa cosa fare poverino ok allora no il cappello mi sa che lo faccio solo più incazzare il registratore fa qualcosa è una frase che possiamo usare con suo nonno ok adesso fammi scendere idrofobo che non si sentono più le voci ok torniamo a casa di vediamo se posso usare una scorciatoia facendo riannusare il cappello ad einstein lo so però ci metto tre ore andare finali era per tagliare con calma è marty ci abbiamo tutto il tempo che vuoi tranquillo ma perché ogni volta cambia tasto dai no tanto c'è qui doc che sta dormendo lasciamolo riposare e andiamo dal nonno di marty allora sto giro suoniamo citofono ok prendiamo il registratore e facciamolo sentire a suo nonno si si è proprio lui è appena andato via allora innanzitutto gli diamo il mandato nonno non può esatto ce l'abbiamo fatta non è molto contento però marty il cappello non glielo ridiamo ah si direi di si esatto e ci stanno vendendo tutta la roba nel futuro ci siamo quasi arrivo subito dico due parole a un mio amico immaginario ma no non gliele dico ok lo spero mi sono persa cosa giusto giusto qualcuna potresti ripeterlo nella mia lingua grazie non lo so non lo so sono gli ubriaconi sono gli ubriaconi di cosa di cosa non ho capito un accidenti vabbè gira la manovella ok no cosa ho fatto no alimenti ok e fin qui ci siamo poi il fuoco il fuoco ci siamo sul fuoco ok shock 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 questo qua non avevo capito dove seguire le sue parole una fiamma una fiamma una fiamma questo qui ok valvola di sfogo questo fulminato questo dai che sto capendo buono bene grazie allora liberi questo girano sarà questo ok divorano scaldi sfogarti ok oh dai che ci siamo no dimmi che è finito no oh oh no 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 for law lawyers are nothing but a bunch of hot air there I said my fault if I don't get a spark out of laws and statutes really wanna vent our dirty laundry in public like this I strongly object to the current of this conversation father you don't like my performance at the courthouse then fire me this may come as a shock to you Papa not everyone wants to be a lawyer and you see this is eating me up inside hotter you get the more I know I'm right if it weren't for scientists men like you would still be dividing the future with she eats bladders and goat deserts stop getting so hot under the collar pop my soup's about to boil over are you okay you and your dad sounded it was an argument we should have had a long time ago we cos'è sono stato bravissimo guarda che diavolo io ho seguito le tue indicazioni per 10.000 volte anche se taglierò Eureka yay now all we gotta do is fuel up the old rocket power drill and you and I can I can take it and go but don't you want to test it first no time the uh the last train for DC leaves in just a few minutes all right you've got to get this baby to the US patent office exactly see don't tell me Michael when can I expect to hear back from the patent office mmmm tra da un mese a sei settimane una settimana tre giorni che cacchio ne so tre giorni oh in about I'd say I can't I'm not from the patent office I don't understand I lie to you but I didn't want to it was just the only way I can get you to trust me ma non puoi dirgli così see there's somebody who's in big trouble someone very important to me to both of us I can't tell you who but I need to save them tonight and I need your invention to do it ma poverino I'll get it back to you I promise and you're gonna be a great inventor insomma sì dai diventerà un grande inventore però così lo fai star male basta perché ce l'ha detto ci sono doc sono pronta non so bene come ma ci proviamo oh oh che diavolo è successo oh oh non stavo facendo nulla cioè no 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 mi ha lasciato un giornale però no no cacchio bicicletta sì ci attacchiamo questo coso qua ci scommetto vai vai attaccaglielo sì 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 viene una figata vai vai grande sì sì guarda sì sì rubagliela rubagliela alla grande io dico che lo recuperiamo spero tutto intero però più veloce però Marty eccolo non così veloce accidenti abbiamo perso il cestino ci provo non ho oggetti che posso usare comunque allora spostiamoci un attimo anche di qui non c'è nulla che posso prendere questo questo no ok sopra no vai di qua qui non riesco a rompere il lucchetto ok ci provo ci provo ci provo ci provo qui sotto ma che cacchio mi serve qualcosa qui no lascia perdere sono lì le chiavi io direi di spaccarlo no devi spaccare il vetro stupido allora vai su ok allora questo perché cosa possiamo usarlo allora ho trovato le chiavi ma non riesco a raggiungerle sta guidando il camion il tuo amico non preoccuparti ma non posso torna indietro se io seleziono questo di là non mi fa andare a me dà il nervoso sta cosa vai oh porca miseria questo volevo fare non me lo faceva fare abbiamo un dischetto eh lo so questo lì mi serve un diversivo ok ora da qui devo andare di qua e da qui qua poi faccio così forse così cacchio vai 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 oh cavolo ok allora a lui sembra che non gliene freghi niente comunque che c'ero io a bordo prendiamo le chiavi e apriamo il lucchetto oh cavolo oh cavolo oh cavolo ma c'è un dammi questo vai vai usalo ok ok ehm uh quella la chiappo io ok devo sparare devo sparare qua ah si la pistola l'avevo selezionata no non l'avevo selezionata vai ora ok ci siamo più o meno più o meno non ho altro da poter usare non ho modo per muovermi a tavoletta ok ci siamo ci sono due pallini buggati che vanno continuano a esserci vabbè siamo salvi più o meno è pure esploso ma cosa non è vero dov'era Einstein oh cacchio suo nonno sta succedendo qualcosa a suo nonno wow abbiamo finito il primo capitolo di ritorno al futuro ragazzi e non è finito bene direi proprio di no vediamo se fanno vedere delle anticipazioni è esatto ecco qua dobbiamo aiutare suo nonno ah l'hanno scoperto oh oh arrestate Tannen oh cavolo dobbiamo salvare un po' di gente soprattutto noi stessi perché stiamo per morire ok ragazzi dunque il capitolo 1 è finito inizieremo col capitolo 2 quindi stoppo qui e ci vediamo nella prossima parte bye ciao 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 ciao